Venendo a Las Vegas per un viaggio di lavoro mi sono portato questo oggettino, questo oggettino molto piccolo, ma assolutamente tascabile, ma ha la capienza di 1TB ed è il Kingston XS1000. All'interno ci possono stare 1TB di dati, ma soprattutto è un SSD molto molto veloce, può andare a 1Gbps di caricamento dei dati, ma anche nello scaricarli, quindi nel passarli. Ma la cosa interessante è che è un USB 3.2 di seconda generazione, quindi molto veloce, si adatta sulla USB-C o su USB-A, ovviamente il suo ingresso qua all'interno è semplicemente un USB-C, ma è molto rapido, molto versatile, a me è tornato molto comodo per fare il backup di tutti i servizi che ho fatto qui, e questo mi è stato d'aiuto perché non ho dovuto portarmi in giro molto spazio, e ovviamente essendo un'unità così piccola è anche comoda non solo per andare in giro, ma anche proprio per viaggiare, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Piccola, maneggevolissima, ma estremamente potente, quindi Kingston XS1000. Grazie. 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 Grazie.